Ciao a tutti, sono Delly e adesso farò reaction dei Seventeen col 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 3, 2, 1 Oddio E' da un po' che non fanno No, allora partiamo già con i scoops Oddio, ho già il concept Non so, tipo Rocchettaro, adoro, no, adoro, adoro, adoro Ah, ma è giapponese Ecco perché poca gente ha fatto la reaction, non capivo Oddio, è stranissimo se tiri in giapponese, odioshi Oddio, Joshua Oddio, non ho vestiti così, mi prego Oddio, adoro Oh, cazzo, oh mio dio, John Gunn, si è stupendo Oddio, John Gunn Ogni volta è bellissimo rivederli ballare, giuro Madonna, Decay Adoro, come sono vestiti comunque, i loro capelli La canzone è passato stranardo Oddio, Vernon C'è, seriamente mi gao Joshua Ma non ancora, no, si è visto Joel Madonna, John Gunn Oh, someone Oh Cosa fatti i bulli con Noshi? Mi uccide tutti Eh, Uzi volevo dire Oh mio dio, no No, no Oddio Allora, Mingyu davanti Non mi stai piacendo No Madonna, madonna, Mingao Con quel mallet Oh mio dio La canzone è stra bella Il video che c'è stra tanto Cioè, è molto coreografia Ma appunto questa Evelyn ci sta Oddio, Vernon Oddio, che è molto strana Dream, Dream è bellissimo Madonna Che poi Mingao Non sembra neanche lui Cioè, sembra un'altra Oh mio dio Wow Ma wow Era tutto troppo in fredda Non me ne sono neanche accorta Comunque, allora La canzone mi è piaciuta molto E anche la coreografia Mi piace molto Ma poi i Seventi Non mi deludono mai Da quel punto di vista E anche proprio come è stato fatto il video Mi è piaciuto Cioè, mi è piaciuto Era secondo me equilibrato Con la canzone Il ballo e tutto Quindi niente In caso scrivete nei commenti Cosa ne pensate Ci vediamo in una prossima reaction Ciao 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 Ciao